Se ci sarà un rinvio a giudizio siamo pronti a risolvere il contratto con Sei Toscana, così il sindaco di Arezzo è presidente di Ato Toscana Sud a seguito della fissazione dell'udienza preliminare del processo a carico dei sei imputati dell'inchiesta fiorentina sulla gara di aggiudicazione del ciclo dei rifiuti che aveva portato al commissariamento di Sei Toscana. Il prossimo 29 novembre compariranno di fronte al giudice l'ex direttore generale del lato Toscana Sud Andrea Corti, gli amministratori soci dello studio a cui l'ente aveva affidato l'incarico di coordinare il procedimento di gara, Marco Buzichelli a suo tempo consigliere di Sei Toscana in qualità di amministratore delegato di Siena Ambiente ed infine Fabrizio Vigni ex presidente di Sei Toscana e di Siena Ambiente. Ritengo necessario, ha detto Alessandro Ghinelli, in caso di rinvio giudizio di tali soggetti per i reati di turbativa d'asta e corruzione, di prendere in seria considerazione l'eventualità di risoluzione anticipata del contratto di servizio. Tale passo dovrà essere preceduto da un qualificato parere di un legale esperto di diritto amministrativo per evitare in tutti i modi eventuali ritorzioni da parte del gestore. Ricordo inoltre, conclude Ghinelli, che lato Toscana Sud si è già incardinato nella procedura penale come parte lesa, con indirizzo da parte dell'Assemblea di procedere con la costituzione del lato come parte civile nell'eventuale processo penale dopo la data del 29 novembre.